Zeppola di riso con il miele è una tradizione di agricento? No, di catà Grazie, complimenti Cibo, 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 qui si mangia Allora qui è la piazza dove si sono radunati tutti perché tra non molto inizia la musica La piazza è già riempita ma anche questa mattina è stata molto frequentata devo dire non so se si esibiranno altri gruppi folcloristici avevano detto qui alle ore 17 ma io non vedo nessuno Grazie 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 Grazie